Gennaro, finalmente è arrivato questo gol. Da quanto tempo lo aspettavi? Ma diciamo che sono contento per il gol, per la prestazione, però no, assolutamente. Se vincevamo anche senza il mio gol andava bene uguale. Ti senti più un mediano o più un trequartista? Ti vediamo molto più brillante a ridosso dell'area di rigore avversaria. Ma no, sono un giocatore che mi piace molto a volte sbagliando, tenere palla, però con l'aiuto del mister sto cercando di migliorare anche su questo aspetto. No, so come mi dice il mister di andare a puntare quando sono lì, perché posso creare superabilità numerica, però diciamo che stasera è andata tutto bene. Ci credete a questi pre-off? Ci credete alla Serie A? Ma noi diciamo che sognare non costa nulla, sappiamo che da ora in poi sono tutte finali per noi e quindi diamo il massimo e poi alla fine tireremo il sonno. Grazie.